I lavoratori italiani sono tra i peggiori in Europa per livello di istruzione. Nel terzo trimestre del 2019, secondo i dati Eurostat pubblicati, solo il 23,4% degli occupati dichiara di avere la laurea, il dato peggiore dopo la Romania, a fronte del 36,8% dell'Unione Europea e 28% del 47,2% del Regno Unito, del 43,3% della Francia e del 36% della Germania. Il dato è particolarmente basso per i maschi, con appena il 18,2% dei lavoratori che risulta laureato e un gap con la media europea, 32,8%, di oltre 14 punti. Se invece si guarda a chi al massimo ha la terza media, la quota tra i lavoratori italiani è tra le più alte nell'Unione, con il 29,7%, quasi il doppio della media europea. I maschi con il livello di istruzione più basso sono oltre il 35%, oltre un terzo degli occupati.